Benvenuti all'undicesimo incontro con la storia d'Italia, in argomento del periodo 1871-1913 che interesserà anche i successivi incontri 12 e 13. In particolare tratterò del colonialismo italiano, africo orientale, eritrea e somalia e per concludere dell'operazione a Creta. Dopo la conquista di Roma e l'effettiva acquisizione della città del ruolo di capitale d'Italia, Roma capitale d'Italia era stata decretata già il 17 marzo 1861 dal neonato regno d'Italia. Il paese conobbe un periodo di riorganizzazione interna e di sviluppo della politica estera. Molti infatti erano i problemi organizzativi relativi alla macchina di governo e molti quelli sociali relativi alla popolazione sorti conseguentemente alla trasformazione, in poco più di dieci anni, di una decina di stati in una sola nazione. Se infatti l'unione territoriale aveva entusiasmato gli animi e le forze sociali, proprio da questa provenivano le difficoltà per la magma nazionale, difficile da raggiungere sul 90% della popolazione, che nello sviluppo della vita quotidiana vedeva crescere le difficoltà dovute a nuove leggi, a nuovi governanti, spesso molto diversi dai precedenti e spesso difficili da assimilare e accettare. Allo stesso tempo la nuova nazione doveva anche affermare la propria esistenza in un contesto internazionale che era regolato secondo il principio della potenza militare ed economica. In questo quadro il governo fu molto impegnato sul fronte esterno per crearsi le basi economiche che in quel tempo poggiavano su un colonialismo in cui i grandi paesi, quali la Francia e l'Inghilterra, non ammettevano concorrenza. E sulla industrializzazione, basata sull'evoluzione tecnologica, ed anche in questo caso una nazione prevalentemente agricola come l'Italia, trovava enormi difficoltà a competere con le altre nazioni. Dopo l'apertura del canale di Suez, avvenuta nel 1869, con la realizzazione da parte del francese Ferdinand de Lesseps del progetto dell'italiano Luigi Negrelli, venivano abbreviate le vie di comunicazione specialmente dall'Inghilterra e della Francia con i loro rispettivi vasti imperi coloniali in Estremo Oriente, in Australia, in Nuova Zelanda, in Africa e venivano intensificati i traffici commerciali. L'Italia, che fino ad allora ancora troppo giovane e nazione non aveva potuto nutrire mire colonialistiche, cominciò a considerare un suo intervento in Africa orientale, dove minore era l'influenza anglo-francese per coltivare territori incolti, attivare miniere in paesi come l'Etiopia. L'avventura coloniale non sarebbe però stata salutata con un animo entusiasmo. Per un paese il cui processo unitario era oltre che estremamente recente e in langa parte alquanto precario, la dispersione di energie e capitali in lontane terre e il cui valore strategico non sempre era chiaro, appariva a molti come un discutibile, talvolta esecrabile, veleditarismo. Comunque sia, dalla compagnia Rubattino, il ministro Agostino De Pretis acquistò il 19 marzo 1882 lo scalo tecnico, rifornimento di carbone, di Assab in Eritrea. Si rese quindi necessaria la presenza militare. Un piccolo corpo di spedizione comandato dal colonnello Tancredi Saletta, del quale fa parte un battaglione bersaglieri che assume il nome del primo battaglione bersaglieri d'Africa, sbarca a Massawa, Eritrea, il 5 febbraio 1885. Il primo a dissare la bandiera italiana in terra d'Africa è un bersagliere, tenente colonnello Putti Emilio. L'Eritrea allora faceva formalmente parte dell'impero d'Etiopia, il cui negus era Giovanni IV d'Etiopia. Il 13 novembre 1885 il colonnello Saletta viene avvicendato nel comando dal generale Carlo Genè, il quale, allo scopo di rinforzare la sicurezza del territorio di Massawa, aveva ampliato l'occupazione fino a Ua, a sud della stessa, facendo compiere l'operazione da un reparto di basci buzù, in arabo significa testa matta, senza leader, per la loro mancanza di disciplina, arruolati fra gli indigeni locali. Tale occupazione generò le proteste del negus che intimò lo scombro di Ua al generale Genè, il quale, di contro, occupò altre località. La contesa generò un conflitto armato e diretto che culminò il 26 gennaio 1887 quando 7.000 abissini di Oterni e Etiopi, comandati dal generale Rassalula, signore di Asmara, attaccano presso l'altura di Dogali una piccola colonna italiana di 550 uomini, comandata dal tenente colonnello Tommaso De Cristoforis, che si regava a portare rifornimenti e aiuti al forte italiano di Saati, comandato dal maggiore Gian Battista Boretti, che era stato precedentemente attaccato dagli indigeni e pertanto scarseggiava in tutto. Gli uomini della colonna italiana si difesero su una collinetta fino a quando non finirono le munizioni e a quel punto, dopo quattro ore di combattimenti, la colonna fu distrutta e lo stesso De Cristoforis si perì. Gli fu assegnata la medaglia d'oro, la prima delle nostre campagne coloniali, e a tutti gli altri fu concessa la medaglia d'argento. Viste la situazione disperata, il maggiore Boretti fu costretto ad abbandonare il forte di Saati il giorno successivo e ritirarsi a Monculo, a sud di Massawa. Si rende pertanto necessario inviare in tutta fretta un secondo corpo di spedizione al comando del generale Alessandro Asinari di San Marzano, di cui facevano parte tre battaglioni bersaglieri, due dei quali, con il primo battaglione bersaglieri d'Africa, formarono un reggimento comandato dal colonnello dei bersaglieri Oreste Baratieri. Il nuovo corpo di spedizione raggiunge Massawa l'8 novembre 1887. Bisognava riconquistare le posizioni perdute, ma l'impresa non era così facile, poiché il Negus poteva disporre di 60.000 uomini. Gli italiani occuparono subito Forte Saati e poi Ghinda, località tra Massawa e Dasmara, la capitale eritrea. Il 7 aprile 1888 fu nominato comandante superiore delle truppe in Africa il bersaglieri generale Antonio Baldissera. Un mese dopo, il Negus Giovanni IV morì in battaglia contro i Dervisci, tribù fanati e guerriere stanziate ai confini con il Sudan. Nella lotta di successione prevalse Menelik II, che si autoprogrammò Negus di Abissinia, l'attuale Etiopia, al posto di Ras Mangasha, figlio di Giovanni IV. Importanti fu un reprittore italiano di Keren e di Asmana, rispettivamente a maggio ed agosto del 1889. A prescindere dalla battaglia di Dogali, dal punto di vista politico, grazie alla avvedutezza di Francesco Crispi, l'Italia condusse una eccellente politica estera. Infatti, il 2 maggio 1889 venne sancito il Trattato di Uccialli, firmato il 20 agosto 1889, tra il Negus Menelik II, imperatore d'Etiopia, e l'ambasciatore italiano ad Addis Abeba, Conte Pietro Antonelli. Con questo trattato, Menelik II, riconosceva le recenti acquisizioni territoriali italiane in Eritrea. Nasceva così la colonia Eritrea, dell'antico nome dell'Oceano Indiano, e l'Italia si assicurava, oltre al protettorato sull'Etiopia, il possesso di alcuni sultanati, Obbia e Maggiurtinia, e di tutti i Benadir, regione somra con capitale, Mogadiscio. Ma su questo trattato internazionale sorsero subito delle controverse, che sposarono in un duro conflitto, ad iniziare dal 1893. Infatti, i Dervisci, in rivolta, invasero i territori italiani e le nostre truppe al comando del colonnello Giuseppe Arribondi per l'assenza del generale Barratieri, governatore della colonia, pur in inferiorità numerica, li sconfissero nella battaglia di Agordat del 1893. L'anno successivo, analogo a sorte, toccò ai Dervisci nella battaglia di Cassara. Prima di giungere alla definitiva battaglia di Adua, vanno ricordate due importanti battaglie a noi sfavorevoli, e cioè L'Ambalagi e Magallè, che sommariamente descrivo. Il 7 dicembre 1895 ci fu la prima battaglia dell'Ambalagi, nell'agroforo etiope, dove il presidio italiano comandato dal maggiore Pietro Toselli, composto da 2.300 uomini internazionali ed indigini, venne assalito da 30.000 abissini guidati da Rassa Meconen, cugino del Negus e padre del futuro Negus Unegesti, che vuol dire re del re, Aile Selassie. Le forze italiane resistettero, ma vista la grave situazione, il maggiore Toselli ordinò il ripiegamento contrastando a nemico la sua avanzata. Ma nulla è servito il valore dei soldati, in quanto le colonne in ripiegamento furono circondate ed annientate e lo stesso Toselli trovò la morte. Gli fu concessa la medaglia d'oro. Per onunare i caduti, gli Ascari, la fanteria coloniale italiana, portarono da quel momento la fascia nera in segno di lutto. I pochi superstiti, in ritirata, furono salvati da una colonna di circa 1.500 uomini guidati dal generale Giuseppe Arimondi, che era partita la sera prima per appoggiare il previsto ripiegamento del Maggiore Toselli. Il secondo episodio riguarda la guarnigione italiana del forte di Enda Iesus, poco fuori dalla città di Magallè, che era al comando del Maggiore Giuseppe Galliano. Tale presidio contava 1.400 uomini, per la maggior parte Ascari, e resistente all'assedio dal 15 dicembre 1895 al 2 gennaio 1896 delle truppe etiope, forti di 100.000 uomini ben armati da Francia e Russia e guidati dallo stesso Negus Menelik II. Molti furono gli attacchi al forte appoggiati dal fuoco di artilleria, ma non sortirono alcun effetto. Consapevole che la guarnigione non era in grado di reggere ancora per molto, il generale Baratieri avviò contatti con Negus per giungere ad una soluzione negoziata. Menelik accettò di buon grado questi colloqui diplomatici che prevedevano la consegna del forte in cambio del salvacondotto alla guarnigione perché potesse rientrare in colo per le linee italiane. Il 22 gennaio 1896 il forte venne sgomberato è consegnato agli etiopi e il secondo smacco per gli italiani. E veniamo alla battaglia di Atua o meno comunemente chiamata Abba Garrima dall'altura prima della città di Atua. La battaglia di Atua al momento culminante della guerra ad Abissinia si combatte il primo marzo 1896 tra le forze italiane che nel frattempo avevano ricevuto rinforzi dalla madre patria al comando del generale Oreste Baradieri e l'esercito di Menelich II Molto eredivare delle forze in campo 17.000 quelle italiane e 100 120.000 quelle etiopi Prese parte la battaglia anche la moglie di Menelich l'imperatrice Taitù che a cavallo guidò vari attacchi Gli eserciti si fronteggiano rimanendo sulle rispettive posizioni Il Negos approfittando di questa inattività bellica intavolò delle trattative diplomatiche arrivando anche ad offrire la cessazione delle ostilità in cambio dell'abrogazione del trattato di Uccialli le cui clausole controverse erano una delle cause della guerra Questa richiesta venne però ricettata dal governo italiano in quanto convinto che solo un pieno successo militare avrebbe permesso di ristabilire il prestigio dell'italiano nella regione Raccontare le vicende della battaglia richiederebbe molto tempo ma nella sua essenzialità va detto che il generale Baratieri stimando che le risorse alimentari erano insufficienti per tre giorni decise di muovere nottetempo per primo per occupare delle posizioni favorevoli e vicine allo schieramento nemico articolò il suo dispositivo in quattro colonne che una volta individuate furono singolarmente accerchiate e dopo aspri combattimenti sopraffatte i supestri si ritirarono sfiniti ed assetati ed è un calvario perché sono sempre attaccati i pochi reparti rimasti in Etiopia li pecarono in Eritrea tranne la guarnigione di Adigrat dove si erano rifugiati molti dei feriti italiani che rimase al suo posto e venne assediato dagli etiopici le ripercussioni politiche in Italia a causa della sconfitta dell'Ambaragi portarono alle dimissioni di Crispi gli italiani ebbero circa 7.000 morti 1.500 feriti e 3.000 prigionieri e gli 800 ascheri catturati considerati traditori dagli etiopici ricevettero come punizione l'amputazione della mano destra e del piede sinistro onde renderli inagili a qualsiasi attività militare Adwa 1.000 marzo 1896 fu un disastro ma ovunque rifusse l'eroico valore dei bersaglieri degli alpini e non solo basti pensare che 4 fanti dal lucido pennacchio dell'ottavo reggimento così definiti dai corrispondenti di guerra hanno tenuto testa a 400 abissini prima di soccombere il cadavere di uno di loro Oreste Razzano da Napoli fu poi trovato con una lancia nel petto avvinghiato al nemico e lo dimostrano anche le ricompense da valore militare ricevute in particolare furono concesse tre medaglie d'oro al valore militare Gennaro e Giuseppe Arimonti Maggiore Giuseppe Antonio Baudoin Maggiore Leopoldo Cesare Prado nel conflitto perse la vita tra gli altri Luigi Bocconi figlio di Ferdinando Bocconi fondatore dell'università commerciale Luigi Bocconi che la chiamò così proprio in onore del figlio eroicamente caduto in battaglia come già detto l'unico baluardo italiano in terra etiope era rimasto solo il forte di Adigrat trasformato in un immenso ospedale e difeso strenuamente dal comandante Maggiore Marcello Prestinari che ha cerchiato alla testa di 2000 uomini ammalati sa mostrare al mondo con fierezza spartana l'animo del bersagliere dimostrando che una fortezza vale quanto valgono gli uomini che la difendono il 4 marzo il generale Antonio Baldissera bersagliere anche lui rileva dal comando il generale Baratieri il quale rientrato in Italia venne imputato da una corte marziale di aver preparato un piano d'attacco ingiustificabile e di aver abbandonato le sue truppe sul terreno fu assolto da questa accusa ma fu descritto dai giudici come del tutto inadatto al comando il nuovo comandante del corpo di spedizione riordina di infondere lo spirito della disciplina bersaglieresca due mesi dopo riprende le operazioni contro i dervisci affidando ai bersaglieri il compito più difficile liberare dall'assedio il forte di Adi Gratta dopo un furioso combattimento durato tutta la giornata del 5 maggio i dervisci fugono sconfitti e i bersaglieri entrano vittoriosamente nel forte dove la bandiera italiana aveva sempre sventolata dopo un lungo armistizio venne firmata la pace di Addis Abeba del 26 novembre 1896 con cui si abrogò il trattato di Uccialli e l'Italia riconobbe la piena indipendenza dell'Etiopia dopo circa un anno il corpo di spedizione rientra quasi completamente in Italia lasciando sul posto pochi reparti bersaglieri e alcuni battaglioni di Ascari soldati eritrei fedelissimi all'Italia a presidio della colonia eritrea valtre si detto che per ricordare i morti di Dogali della colonia del colonnello dei Cristoforis in diverse città italiane furono intitolate strade e piazze a Roma il piazzale antistante della stazione Termini venne ribattezzato dei 500 in onore dei 500 caduti e al centro di esso venne innalzato un obelisco commemorativo del fatto d'arme è passato un anno da Adwa si è voltato una pagina della storia ed in essa è rimasta la gloria dei bersaglieri sempre presenti là dove la patria del sacrificio e il dovere li ha chiamati questa volta a Creta grande isola del Miterraneo a sud della Grecia non è una missione di guerra ma una missione di pace la Turchia aveva soffocato l'anerito di libertà di questi isolani ed i bersaglieri d'Italia venuti in soccorso con gli inglesi e i francesi apparvero come i fratelli venuti dal mare a portare conforto partecipa il dodicesimo battaglione dell'ottavo reggimento comandato dal tenente colonnello marchese Achille Brusati quello di Portapia forte di 8.000 uomini l'operazione inizia il 21 aprile 1897 e termina il 26 novembre 1898 un giorno truppe regolari turche e irregolari musulmane pongono l'assedio alla fortezza di Candia presidiata da un reggimento inglese a salvare gli alleati si precipitano come falchi 400 bersaglieri che sbarcati di notte sulla spiaggia deserta con una marcia di 17 km compiute in duvore su terreno difficile carichi di vivere di munizioni raggiungero la fortezza di Candia il comando interaleato aveva scelto di mandare i bersaglieri sia perché più veloci sia per l'affetto che la popolazione nutriva per loro i bersaglieri sbaragliano gli assedianti con l'impido che è loro proprio penetrano nella fortezza e salvano gli inglesi si ode allora il grido già udito in Crimea per i bersaglieri d'Italia ip 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 urrà i bersaglieri suddivisi in piccoli gruppi portavano sollievo a questa popolazione ormai allo stremo tanto da meritarsi bellissimo nome coniato dalla lingua degli antichi pati della Grecia Palikaro che è il nome dei soldati dell'antico eroe albanese Giorgio Castriodo a cui sultano turco Murad II diede il nome di Skandenberg Palikaro in età bizantina era lo scotiero che a piedi serviva il cavaliere nella guerra di indipendenza della Grecia dal dominio ottomano era il nome con il quale i turchi identificavano i ribelli greci ed albanesi e Palikaro a Candia diventa sinonimo di bersagliere e durerà tanti anni nell'isola a testimonianza del ricordo di quei bravi ragazzi la città e le campagne distrutte dalla rivalità si rianima a nuova vita e da nuove speranze sotto la protezione più umana tutti sono aiutati senza distinzione di razza o di religione dieci soldi al giorno e la paga e questa paga a tutti a procurarsi il cibo basta e lasciare il rancio ai poveri di Candia affamati il battaglione rimane sull'isola venti mesi e rimpatria quando i durchi si ritirano si conclude l'undicesimo incontro con la storia d'Italia